Allora, arriva la fine della stagione, almeno per le partite casalinghe della Coccinella, si chiude con questa vittoria un sette bello, quattro reti di Giulia. Sì, abbiamo chiuso nel migliore dei modi la stagione casalinga, non ci aspettavamo questo risultato perché San Lorenzo sta facendo bene, ha fatto un gran giro di ritorno, noi eravamo cinque, però ci abbiamo messo tutto quello che avevamo per l'ultima partita in casa. Non vi siete mai fermate nonostante proprio ampiamente rimaneggiata? Sì, non ci siamo mai fermate perché sapevamo che era importante anche per una questione di meritocrazia, abbiamo fatto una grande stagione ed è giusto prenderci gli ultimi sei punti che restano. Allora, Volpi, non arrivano punti in questa sfida, una trasferta difficile lo sapevate, però voi dovete correre, soltanto la matematica ancora non vi condanna, però voi ci credete fino al fine? Assolutamente sì, sarebbe sciocco arrendersi adesso anche perché, come ha detto Giulia, veniamo da una serie positiva di partite, sicuramente possiamo soltanto imparare da quello che abbiamo visto oggi in campo, comunque contro una squadra che già salva cinque contate, penso che ci sia servito da lezione e ne faremo tesoro per le prossime partite. Allora, arriva comunque la fine della stagione, resta soltanto un turno, voi lo chiederete in casa, che vi resta di questa stagione abbastanza difficile? Beh, sicuramente una serie C è tutto un altro mondo per noi e ci resta l'impegno che ci abbiamo messo da inizio anno, quindi dalle difficoltà incontrate al nostro adeguarci al livello e a dare tutto, a non darsi mai spacciate neanche contro la prima in classifica, e nel nostro caso è stata la Roma con la quale abbiamo portato anche tre punti a casa e quindi è stata sicuramente... Una piccola ma grande soddisfazione? Assolutamente sì e questa serie comunque ce la terremo stretta, quindi non ce ne andiamo. Bene, grazie comunque alla Volpi e all'Atletico San Lorenzo, chiudiamo con Aiello, allora ormai è tempo di bilancio, mai nessuno avrebbe pensato questa grande cavalcata lì in alto, quasi a ridosso della zona play-off, addirittura aver disputato anche la Final Four di Coppa, veramente una stagione straordinaria, soprattutto anche non dimenticando di tanti infortuni. Assolutamente una stagione sopra le aspettative, purtroppo abbiamo peccato un po' con la sfortuna, insomma tre infortuni in una stagione sono tanti, a noi ci ha penalizzato però è stato bellissimo così, abbiamo fatto più di quello che pensavamo di fare, quindi siamo super soddisfatte.